Amici 2023, chi rischia l'eliminazione dalla puntata, Mattia verrà fatto fuori. Chi rischia l'eliminazione dalla quarta puntata del serale di Amici 2023? Lo scorso giovedì è stato registrato il nuovo appuntamento con il talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi. Che sarà poi in onda questo sabato 8 aprile in Prime Time su Canale 5. I colpi di scena non sono mancati e, al ballottaggio finale per l'eliminazione di questa settimana. Sono finiti due allievi amatissimi dal pubblico, trattasi di Alessio e Mattia. Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 continua ad appassionare il pubblico e gli spettatori della rete Mediaset. La registrazione della quarta puntata è stata a dir poco densa di colpi di scena e sorprese, al termine delle riprese c'è stato spazio per una sola eliminazione definitiva dalla gara. Ma il verdetto non è stato reso noto da Maria De Filippi. Mattia e Alessio sono i due ballerini che, al termine delle varie manche di questa settimana, si sono ritrovati a rischio eliminazione definitiva. Uno di loro dovrà dire addio per sempre alla gara e, in queste ore, i fan social del talent show Mediaset. Si dicono preoccupati per le sorti del giovane Zenzola. La vera vergogna è che allievi come Cricka e Wacki siano ancora dentro la scuola di Amici e altri. Decisamente più talentuosi, siano stati fatti già fuori dal cast, ha sbottato un fan del talent show Mediaset decisamente furioso per il ballottaggio di questa settimana tra i due allievi di Amici 22. Non ho parole per questo ballottaggio, ma temo che Mattia sarà fatto fuori dal cast. Alessio è decisamente più bravo, ha scritto un altro fan della trasmissione di Maria De Filippi. Chiunque esca questo sabato sera, sarà una vera ingiustizia. Mi auguro che Alessio possa salvarsi al rush finale. Ha commentato qualcun altro sui social. Al momento, quindi, la maggior parte dei fan social del talent show Mediaset si dicono convinti del fatto che Mattia Zenzola potrebbe dire addio definitivamente alla gara a termine di questa quarta puntata. Il verdetto finale, però, sarà svelato solo sabato 8 aprile al termine dell'appuntamento condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il giovane componente della squadra capitanata dall'Orella Cuccarini e Raimond Todaro sarà fatto fuori dal cast. I pronostici dei fan si riveleranno esatti. Lo scopriremo nel corso della quarta puntata del serale. In programma anche nella serata di sabato santo, a partire dalle 21.30 circa. S-o admire nave spatiale de pe Andromeda, asta-i celul, il executi ca pe Maria Antoaneta. Aia de cand ma stiu textul-i plin de dude, dumele tante printre dalea culte, incerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete lumea de din capa rupte. Obele bat cu inima deodata, nu le opresc, ca nu s-a atat de nebun, ma gandesc tu ce crezi. Orice crezi, tine, pentru tine, fii egoista, liniști, ci eu scriu rime pentru mine, pentru b-boyul din grigo, DJ-ul...